Vi faccio vedere gli ultimi colori presi da Cristaline dove ci sono le rocaglie che le avevo finite, tutte quante le ho riprese e vi faccio vedere l'omaggio che mi ha dato per questo acquisto, mi manda sempre degli omaggi, è carinissima, mi trovo proprio bene, ve la consiglio e anche perché i prezzi sono ottimi e il pacco vi arriva con 24 ore, quindi dall'ordine appena fatto, secondo me conviene, perché non vuole aspettare tanto come me. Con questo video vi saluto e stasera probabilmente pubblicherò la nuova creazione, se riesco a finirla in tempo, quindi a presto amiche!